Passano rumendo tutto quanto, vorrei che si sa, intesemente vorrei un bicchiere d'acqua non rispondono nessuno, hai visto? E si stanno rumendo tutto quanto, e va comunque un'oretta, si si gira, ovviamente buono, da buttando la parete, mattina a seguente, a terra seria, a New York, capitano tutto il staff, tutte le osse, complimenti, complimenti, grazie di aver scelto la nostra linea, grazie, 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 grazie. Poi a San Lourdes, a New Bicchiarielli, a 70 anni, ha viaggiato bene, comandano, siamo proprio buoni, ma ci ha lamentato, dice, ma noi siamo una delle serie, ma come è successo qualcosa? Dice, no, no, sarà stato l'aria condizionato, sarà immaginato a bucciare di fritto, stanotte immaginato a bucciare di fritto, e beh, ci sono le nostre hostess, potevate chiedere una coperta, una coperta, e stavo ora che ha cercato un bicchiere, da questa mi sono vinto un'ora!